Amici del Fantasy V, io sono particolarmente contento di avere al mio fianco Alessio Puccio. Alessio, ben arrivato qui a San Giorgio Arte Mano. Grazie mille. Allora, con te possiamo parlare di qualunque cosa, ma chiaramente, visto che parliamo del contesto fantasy, facciamo versione degli anelli, stavo scherzando, stavo scherzando. Parliamo chiaramente di Harry Potter, un personaggio col quale sei letteralmente cresciuto, dal punto di vista professionale, ma mi permetto di dire, anche dal punto di vista umano, è stato un vento e forse che è stato un consiglio. Siamo molto legati, continuiamo a frequentarci, ovviamente sempre all'interno della sala, purtroppo non ci siamo mai conosciuti, chissà, prima o poi, insomma. Io faccio sempre questi appelli, intanto, prima o poi ci conosceremo, però è così, rapporto molto, molto, molto stretto. Alessio, io so del parere che un doppiatore è un attore che lavora due volte, perché deve lavorare in sala di doppiaggio, ma contemporaneamente deve lavorare anche per l'attore che parla in lingua originale. Ti chiedo, quanto distanti siamo da questa affermazione? Allora, siamo, sì, lo posso considerare un attore, siamo degli studiatori. Sì, lo sei, vogli amici. Però ovviamente dobbiamo, non dobbiamo andare oltre quello che fa l'attore stesso, quindi non siamo degli imitatori, perché comunque anche noi mettiamo le nostre emozioni e tutto quello che ci passa in quel momento, però comunque dobbiamo sempre rimanere abbastanza fedeli e legati a quello di fare l'attore, ovviamente, quindi la tua affermazione, diciamo, ci può stare. Ti metti alla prova anche però come attore, diciamo, perché comunque hai fatto tutta una serie di lavori, tutta la televisione, quindi insomma hai avuto anche la possibilità di confrontarti col set. Come vivi quel tipo di esperienza? Guarda, da più giovane ormai. Sì, però sì, ho fatto il capitato di fare televisioni, cinema e gli ultimi anni pure insomma YouTube, abbiamo lavorato con YouTube, è una serie molto carina, è un successo sulla Roma, sui tiposi della Roma molto seguita e beh, devo dire che ovviamente facendo il doppiatore da 30 anni le emozioni sono differenti, quando vedrò davanti una telecamera devo dire che ancora c'è tante emozioni, però è comunque, ovviamente sia la prova, è vincere determinate paure, no? E che magari non ho più quando faccio il doppiaggio, però anche quando mi parevo di fare teatro è la stessa cosa, no? Tante emozioni, paure, ritorna la mia timidezza, quindi insomma è una crescita generale. Quello del doppiatore è anche un affare di famiglia, basta che questa espressione, c'è un po' un po' anche Tosana, però hai poi trasmesso questo lavoro a tuo figlio, quali sono stati i consigli che gli hai dato? Ma guarda, loro consigli, pochi, di rivertirsi, gliela faccio vivere come un gioco come hanno fatto con me i miei genitori e non lo appesantisco, insomma, ne parlo sempre con lui, ti piacerebbe fare questo progetto, gli evito tante cose, insomma, lui è piccolo, ha le sue attività per cari, ha le sue analità, insomma, fa tante cose, però lui la vive abbastanza bene, lui va là, adesso comincia a dire, papà quanto ho guadagnato, ovviamente, quello ancora glielo tengo nascosto, però lui la vive come un gioco, insomma, entra là, chiacchiera, è una cosa che comunque l'ha aiutato pure lui a vincere la timidezza, inizio era molto timido e adesso tutto quello che vedo, fare in sala, parlare, avere un rapporto con persone più grandi, è molto cambiato, questo è un lato positivo e poi comunque entrare nel mondo del lavoro da così piccoli a capire tante cose, io sono molto maturato, sono maturato prima rispetto a quei miei amici, no, e quando avevo quattro ore, dicono, dicono che comunque c'era qualcosa che significava lavorare e dare valore al denaro, guadagnato, è quello importante, insomma, c'è qualcuno, adesso ritorniamo alla tua professione, c'è qualcuno in sala di doppiaggio, rispetto al quale sei rimasto un attimo così, c'è, per noi tu sei la voce di Harry Potter, poi chiaramente per le nuove generazioni di altri personaggi che hai portato al cinema, un doppiatore di fronte al quale per un attimo sei rimasto così, perché era una voce familiare vista magari dal cinema di tutti, e lo so che è difficile questa domanda. Ma guarda, quando mi capita, ormai non più, mi è capitato da piccolino a stare in giro con questi sacri, no, con Cesare Pagliari, con Gianni Musi, Gianni era un nonno, insomma, quando finivamo di incidere dove andava tutto a braccio, dove andava a rubare, era una promozione meravigliosa, e, ma, restare un po' scherzato davanti a qualcuno, adesso non mi viene in mente, però, ti devo dire che magari mi capita di incontrare un determinato collega, che ha fatto una cosa che mi è piaciuta, e mi lascia ripare la battuta, io posso, mi sento un po' sceso pure quando ero a fare, però, insomma, mi capita anche, ecco, come ho detto, ad esempio di Angelo Maggi, no, c'è mio figlio che mi piaceva, Iron Man, quindi, no, mi fai un vocale per mio figlio, oppure Alessia Mendola per Encanto, ma vieni un vocale per mio figlio, oppure Alice Polidori e Spider-Man, quindi, insomma, capita pure a me, ecco, per i miei figli. Sì, sì, no, per i figli si fa, per i figli si fa qualsiasi cosa, però, questo è da andare là per una domanda, che più per una domanda è una curiosità, Alice, la gratitudine comunque verso il pubblico, perché mi rendo conto che talvolta viene, che ne so, il fan, al fantasy, che ti chiede di fare il vocale con il messaggio, con il messaggio di riporti, immagino questo sia comunque anche un lato bello della tua professione, se chiaramente c'è rispetto nei confronti del professionista, non si diventa invadenti. Sì, no, vabbè, insomma, invadenti no, fa sempre molto piacere, resto ancora dopo tanti anni, un po' di stuccolosino da ragazzino adesso, ho visto le nuove generazioni, ne vengono comunque per chiederti l'autografo, ma io non sono un calciatore, no, oppure un attore come, no, 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 ti seguo anche la mia infanzia, e quindi fa molto piacere, insomma, e vedere, insomma, ormai sono passati dal tuo film a me, sì, sì, almeno sì, e vedere le nuove, no, le vecchie generazioni, le mamme che portano, i mamme fan che portano i figli e ti chiedono guardare la foto, la mamma e poi il figlio, una cosa comunque molto bella, e pensavo che, insomma, quel tempo scemasse, ma invece, insomma, scemasse. Allora, devi sapere che i miei colleghi del Fantasie vogliono assolutamente sapere delle cose per quanto riguarda il lavoro di film, quindi dove ascolteremo la tua voce? Allora, vabbè, ovviamente adesso esce The Witch, fino a giugno, fino a luglio, e poi ci stanno faremo varie cose, varie filmette di Netflix, insomma, poi, più in là faremo il Gran Turismo, il film di Gran Turismo, e adesso mi occuperò della direzione, dietro le quinte del nuovo film, della tesi che è The Beetle, e, insomma, cose progettive, adesso, in cui si vedrà. Allora, adesso devo fare una richiesta per tutti i fan del Fantasie di quelli che sono qui a San Giorgio Arremare, a quelli che ci seguono magari sui social, se Harry Potter può fare un saluto in camera. Allora, un saluto a tutti i ragazzi, a tutti gli organizzatori del Fantasie Day di San Giorgio a Cremano, da Alessio Buccio, da Harry come volete voi, di Gardio Molediosa. Grazie. 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 Grazie.